No, stai, aspetta, è partito già, dimmi tu eh, vai, si è netto ragazzi, allora, ascolta te però, tu con le carte, cosa hai mai visto, ma sei riuscito in praticamente a riuscire a fare dei giochetti, delle cavolate, qualsiasi tipo, no, no, certo ti ho fatto vedere dei giochetti, però stai ben attento, quello che vedi adesso, in particolare, è un giochetto di magia un po' molto particolare, ti spiegherò il perché, perché praticamente ci ritroviamo esattamente a farti capire che nel mondo, con le carte, puoi fare qualsiasi tipo di cose, tipo, una storia, una storia che narra di due ragazzi, no, due ragazzi che con il poker sono riusciti a farsi, sono riusciti a farsi una storia, una storia esorbitante, sono riusciti a giocare a poker e farsi talmente tanti di quei soldi che praticamente si sono riusciti ad aprire una discoteca, ma non rubando, semplicemente vincendo, questi due ragazzi un giorno si incontrano e visto che io sono una persona tranquilla, ti voglio proprio raccontare la storia, ti le voglio presentare, sono loro, sono due e tre, un tre di colore rosso e un tre di colore nero, uno di due dice l'altro, ascolta, noi abbiamo questa discoteca, ci siamo aperti la discoteca, però come funziona, cosa facciamo, in che modo noi possiamo riuscire a riempire questa discoteca? guarda, cerchiamo di chiamare un taxi, e arriva questo taxi, questo taxi qua dovrei far salire uno di questi due sopra coperti, falli salire, uno di questi due, stavolta con il tre di picche sopra, taglia, ricordati questo movimento che lo farebbe un po', taglia, e a questo punto il ragazzo deve farsi il suo grande viaggio perché ha preso un taxi e deve viaggiare e viaggiare, si ritrova disperso nel mazzo, si fa il suo grande viaggio, viaggia, 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 finché arriva a un certo punto che il ragazzo se ne accorge in un batter d'occhio deve ritornare, nel momento che ritorna dice scusami un attimo ma cosa è successo, cosa non è successo, guarda, è successa una cosa fenomenale, dice perché? Perché io sono andato in un posto dove c'era un casino di gente e sono riuscito a recuperare 4K, 4K dove? 46esima strada, il civico 8, il taxista è stato talmente veloce che addirittura gli ho lasciato anche due euro di mancia, ci siamo, i K sono già nella discoteca, cosa succede? Che i K si lamentano, si lamentano perché praticamente dice va bene, scusa fino a un certo punto, però noi siamo da soli, siamo solo noi 4K, dice come facciamo a recuperare altre persone? Guarda, non ti preoccupare, vai col taxi e prendi altre persone, fai salire uno di questi due, stessa cosa taglia, a questo punto il ragazzo si ritrova disperso nel suo taxi che si deve fare il suo grande viaggio e cosa succede? Viaggia, 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 ovviamente cerca sempre nei suoi vari posti, nelle varie cose, però a un certo punto il ragazzo si deve ricordare che in un batter d'occhio il ragazzo ritorna, ma nel momento che ritorna dice scusa un attimo, stavolta cosa è successo, cosa non è successo? Stavolta è successo qualcosa di veramente molto più particolare del solito, tipo, guarda, sono riuscito a recuperare 1, 2, 3 e 4 donne, dove le recuperate? Sì sì, le recuperate, guarda, ti faccio capire, 46esima strada, il civico 8, il taxista è stato talmente veloce che gli ho lasciato addirittura 2 euro di mancia. Le donne si lamentano, perché? Perché sono nella discoteca, nella discoteca ci sono solamente i K che sono, come si dice? I re, i doni. Sono vecchi, capito? Quindi ci vuoi una persona più giovane. Allora facciamo una cosa, chiama il taxi, fai salire uno dei due, taglia dove vuoi e il ragazzo deve farsi un viaggio veloce perché comunque la festa sta già andando, no? Allora il ragazzo viaggia, 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 in batter d'occhio il ragazzo, tac, è quello che ritorna. E nel momento che ritorna dice scusa un attimo, stavolta cosa è combinato? Stavolta fenomenale, sono riuscito andare sempre nella 46esima strada, in un posto e praticamente ho così invitato due persone e gli ho detto guarda scusa un attimo ma voi ci siete? Sì sì, quindi quanti siete? Uno, due, tre, quattro Jack, dove? 46esima strada, il taxista è stato bravo che gli ho lasciato 2 euro di mancia. Ah, non manca più niente. Un Jack rimane da parte e dice ragazzi scusate un attimo ma è successo qualcosa di particolare, dice tipo è successo che manca da bere. mannaggia ci dimenticate, allora dice fai una cosa, facciamo una cosa del genere, riesci a pagare? Questo apre il portafoglio e nel portafoglio si trova solo un assegno da 40 euro e dice mannaggia come facciamo? Fa guarda chiede ai tre e uno dei tre dice guarda tu avresti per caso da cambiare un assegno? Fa sì sì guarda non ti preoccupare, in cassa giusto giusto stamattina sono riuscito praticamente quant'era? Da 40? Sì sì tranquillo perché il tutto lo cambio esattamente in 4 pezzi da 10 e visto che sei bravo perché tu devi prendere da bere ti lascio anche 2 euro di mancia, adesso prendi e vai a comprare da bere. Con un tre proprio? Taglia. A questo punto il ragazzo si ritrova praticamente a fare il suo grande viaggio, allora il ragazzo viaggia viaggia viaggia, si fa il suo grande viaggio finché in un batter d'occhio deve ritornare e torna. Nel momento che torna dice scusami un attimo stavolta cosa è successo, cosa mi è successo? Ah fenomenale! Sono andato sempre nella 46esima strada e nella 46esima strada sono riuscito a recuperare esattamente guarda bene 1, 2, 3, 4 bottiglie di ice whiskey e dice scusami praticamente il taxista è stato molto più veloce stavolta quindi gli ho lasciato anche 5 euro di mancia, adesso ragazzi non manca più niente, la festa va avanti, le persone si divertono, donne, uomini, chi trova, chi non trova, succede che cosa? Che questi due dicono guarda io sono contento di questa festa e uno dei due dice l'altro tu sei tutto della mia vita perché comunque abbiamo parlato mentre giocavamo a poker però sei rimasto un po' scettico sulla tua, cioè nel senso raccontami un po' la storia della tua vita e lui dice guarda che cosa vuoi sapere della mia vita? Diceva ora io vorrei sapere esattamente tutto quanto dall'inizio alla fine, dall'inizio inizio inizio inizio, dici sì sì dall'inizio inizio inizio. Allora cosa devo dire? Io ho 65 anni, sposato da 35, ho 7 figli di cui 4 maschi e 3 donne, sono iscritto al club del 77, tu hai vinto la partita di poker con un 8 servito e avevi un poker fenomenale ma io sono riuscito a batterti con una scala reale. Grazie, 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 grazie.